buongiorno in questo video parleremo di alcune regole della parola chiave dis la stessa parola chiave che abbiamo per esempio incontrato quando abbiamo definito delle funzioni costruttrici questa parola chiave infatti ha delle regole che ci possono essere utili ricordare o quantomeno sapere per affrontare alcuni casi particolari per quando programmiamo in javascript come ricorderete in javascript tutto è un oggetto incluse le funzioni o meglio quasi tutto è un oggetto come abbiamo detto date dato il trattamento peculiare degli oggetti in javascript la parola chiave dis si comporta in maniera diversa da quello che si da quello che capita in altri linguaggi orientati agli oggetti come java come python in generale dis non si riferisce alla funzione in cui appare così come dis non si riferisce sempre al medico l'oggetto corrente allo stesso modo dis non si riferisce al contesto cioè alla funzione esterna in cui la funzione viene in quella funzione che utilizza dis viene definita e dis non si riferisce all'oggetto che genera la chiamata quindi cioè l'oggetto che genera un evento specifico ciò nonostante dis l'abbiamo già visto è utilizzato nei metodi degli oggetti all'interno degli oggetti sarà utilizzato anche nelle classi che sono solo un come vi dicevo un quello che viene chiamato sintattica al sugar quindi un addolcimento sintattico della modalità a oggetti basato su prototipi di javascript e anche molto utilizzata molto comoda nelle callback come gli event handler che abbiamo visto la settimana scorsa qualche giorno fa quindi dobbiamo imparare quantomeno sapere quali sono le sue regole e sapere quali sono i casi più comuni in cui potremmo che potremmo incontrare questa parola chiave e come reagire a questi casi più comuni qual è la regola d'oro per il dis che vale quasi sempre all'interno di una funzione il dis è sempre vincolato bound a alcuni oggetti specifici e questo vincolo dipende esclusivamente dal sito chiamante della funzione quindi da dove da come la funzione è chiamata non dipende da come la funzione dichiarata quindi è indipendente dal fatto che sia una function expression o un being passato per riferimento o una function statement non dipende da dove la funzione è dichiarata sia dichiarata nel posto nel global quello che javascript nel browser era window se è una property di un oggetto metodo se è una funzione innestata all'interno di un'altra funzione e così via ma appunto questo vincolo questo binding del dis dipende esclusivamente dal lo ripeto dal sito chiamante dal sito di chiamata della funzione l'unica eccezione considerevole da ricordarsi a questa regola generale è che le arrow function non rispettano questa regola generale e si comportano in maniera diversa ma parliamo di questa regola generale dato che il dis come dicevo qui dipende esclusivamente dal sito chiamante quindi da dove viene chiamata la funzione che contiene il dis è importante identificare sapere identificare qual è questo sito chiamante queste qual è questo call site di una funzione che utilizza il dis quindi intuitivamente questo è quello che potreste fare trovare da dove la funzione viene chiamata quindi immaginare di essere nella funzione che viene appena chiamata andare un passo indietro nella call stack quello che abbiamo visto nel video scorso quando abbiamo parlato di l'event loop e guardare subito prima da dove viene chiamata quella posizione è il vero sito di chiamata della funzione e ovviamente la stessa funzione all'interno di un programma potrebbe essere chiamata da posti diversi in tempi diversi perché un programma può essere ampio e quindi può prevedere che la stessa funzione venga chiamata in modi diversi in tempi diversi però ogni volta e il call site di quella specifica invocazione della funzione è l'unica informazione importante per capire per identificare come funziona il dis e eventualmente capire come risolvere qualche problema legato a questo quindi il call site della specifica invocazione di funzione che contiene un dis che ci interessa è l'informazione importante per rispettare la regola d'oro che abbiamo detto prima qual è il sito di chiamata per esempio a prendiamo questo programma questo programma come vedete definisce nello scopo globale una funzione che si chiama buzz che è definita qui in testa che stampa a console buzz e poi chiama la funzione bar che definita subito dopo che stampa console bar e poi chiama la funzione fo che si definita subito dopo che semplicemente stampa fo allora qual è il call site di queste funzioni se andate sul sul sito questo loop che vi ho fatto vedere l'altra volta per il l'event loop potete vedere anche come appunto funzione call stack e quindi vedere anche graficamente questo che adesso andiamo a raccontare a voce allora qual è il call site di buzz beh ci mettiamo all'interno della funzione e andiamo a vedere immediatamente prima qual è chi è che lo invoca chi è che invoca buzz il contesto globale in questo caso buzz è invocata solo qui e quindi per questa prima invocazione il contesto è quello globale se buzz fosse invocata anche da dentro fo avremmo ovviamente due call site in base a dove bar buzz viene chiamata viene invocata quindi in questo esempio buzz viene invocata nel contesto globale dove viene invocata bar qual è il call site di bar beh il call site di bar se andiamo un passo indietro è buzz quindi se noi avessimo un dis il dis appartiene a questo buzz qual è il call site di fo il call site di fo è bar quindi quello che immediatamente la chiama prima e di nuovo se noi avessimo un dis e dentro fo questo dis sarebbe ereditato sarebbe quello che fa riferimento a bar che a sua volta sarebbe quello di buzz e che a sua volta sarebbe quello globale quali sono una volta capito questo concetto del call site quali sono le regole di default per questo binding per questo link tra il dis e la funzione beh prima di tutto la regola di default quello che capita quando definiamo una funzione come buzz quindi qui nello scopo globale quando chiamiamo normalmente quando invochiamo normalmente la funzione e si applica questa regola di default questo default binding e si applica se gli altri casi che vedremo dopo non si applicano in questo caso se siamo in strict mode come tipicamente siamo almeno all'interno di questo corso il dis che può essere chiamato all'interno della funzione fo che viene chiamata dal global è undefined è sempre undefined se non fossimo in strict mode quindi se non usassimo la riga use strict all'inizio del file il dis che viene utilizzato all'interno della funzione fo è invece l'oggetto globale che in nod si chiama global e come abbiamo visto nel browser si chiama window dove abbiamo window.document eccetera questo default binding è una regola abbastanza diciamo inutile ma è la regola di default che se tutti gli altri casi non non funzionano ed è soprattutto inutile dal fatto che noi lavoriamo in strict mode quindi non c'è una vera ragione per utilizzare questo default binding semplicemente non chiamiamo mai dis all'interno di funzioni che vengono chiamate nel contesto globale quindi in questo stand alone mode come viene definito qui quindi quando abbiamo una funzione che siamo sicuri che verrà invocata dal contesto globale all'interno di quella funzione è meglio non avere dis a meno che non ci serve espressamente allora troveremo un modo per passare questo dis il dis che ci interessa a noi seconda regola il binding implicito ed è quello che in parte abbiamo visto quando abbiamo costruito oggetti se ne abbiamo un oggetto come in questo caso obj che ha due proprietà a 2 e fo che in realtà è un metodo quello che abbiamo sempre chiamato metodo è solo che in questa volta invece di definirlo qui vicino a fo lo semplicemente gli diciamo che questo metodo è definito fuori si chiama questo extra fo ecco in questo caso se noi scriviamo ricordate sempre il call site se noi scriviamo obj quindi questo oggetto punto fo quindi suo metodo verrà chiamato questo extra fo che stamperà dis punto a e quindi stamperà 2 quindi quando chiamiamo il metodo di un oggetto sia in maniera esplicita scrivendo qui il corpo della funzione sia linkando passando solo il riferimento a un'altra funzione definita da qualche parte nel codice il dis si riferisce all'oggetto stesso quindi il dis della funzione fo definita all'interno funzione do e il dis di questo obj quindi dis punto a mi restituisce 2 attenzione però che mentre la regola 2 è valida quindi scriviamo oggetto punto metodo diesel che viene chiamata all'interno di quel metodo si riferisce all'oggetto e se noi non invochiamo la funzione quindi non scriviamo obj punto fo aperte chiusa parentesi come nella slide precedente ma assegnami il riferimento della funzione a un'altra variabile e poi la invochiamo subito dopo che è una cosa legge del javascript che abbiamo visto anche se non tanto comune a questo punto il call site non è più l'oggetto ricordate il call site dove viene invocata la funzione in uno specifico momento quindi call site non è più obj perché abbiamo solo salvato il riferimento di questa funzione fo che poi è questa funzione qui in alto alla fine della della catena alla fine della giornata e quindi quando la invochiamo qui il call site è di nuovo globale e quindi il dis punto a in questo caso mi darebbe undefined allo stesso modo se noi facciamo qualcosa di ancora più complicato perché abbiamo un oggetto che definisce il metodo fo il metodo fo è definito qui che fa console punto log dis punto a esattamente come nella slide precedente ma abbiamo un'ulteriore funzione che si chiama do fu do fo a cui passiamo il riferimento a una funzione a nostro piacere quindi quando qui chiamiamo questa do fo e passiamo il riferimento di nuovo non invochiamo la funzione ma passiamo il riferimento alla funzione fo al metodo fo di obj a quel punto la funzione viene invocata non qui non viene invocata da dentro l'oggetto non viene invocata e qui dal global ma viene invocata qui dentro dentro la funzione du fo quindi il dis non sarà più il dis relativa a questo bj ma sarà il dis del sito chiamante quindi qui dentro e quindi probabilmente non sarà sicuramente anzi senza probabilmente non sarà due ma probabilmente sarà undefined anche in questo caso perché du fo viene chiamata dal perché è questa qui prenderebbe e come col site quello di du fo il dis di du fo ma du fo è chiamato in global che sappiamo non avere dis in strict mode almeno e quindi in strict mode probabilmente questo ci darebbe un errore ci stamperebbe undefined il dis sarebbe undefined quindi undefined punto a probabilmente si lancierebbe un errore quindi dato che può capitare e è un caso raro perché sono cose che non si fanno molto di di frequente il passare riferimenti a funzioni avere funzioni che chiamano un'altra funzione tramite riferimento anche se lecito in javascript quando sappiamo di avere un metodo come in questo caso come questo fo che viene definito all'interno di un oggetto anche se poi la funzione è definita fuori è sempre bene passare gli oggetti non le funzioni quindi invece di passare obj punto fo passiamo obj in questo modo siamo sicuri che il dis venga mantenuto quello corretto quello che noi ci immaginiamo quindi quello di obj regola 3 è anche possibile in javascript fare un binding esplicito quindi mentre prima abbiamo parlato del binding implicito nella regola 2 appartenente agli oggetti è anche possibile fare un binding esplicito quindi collegare attraverso i metodi call e apply che sono metodi definiti nativamente per tutte le funzioni javascript collegare un certo una certa funzione di nuovo la nostra funzione fo a un determinato oggetto eventualmente passando poi dei parametri a questa funzione in questo modo facciamo un collegamento un binding esplicito perché siamo noi nel programma che a un certo punto diciamo questa funzione è collegata a questo oggetto al primo parametro di entrambi e quindi è come se scrivessimo a un certo punto obj punto fo anche se fo non è un metodo di oggetto è come se da questo punto in poi l'oggetto acquistasse a runtime diciamo così anche se non è definito un nuovo metodo quale nuovo metodo questo che si chiama fo quindi questo è un metodo binding esplicito e da questo punto in poi la funzione fo avrà un dis che il dis di un oggetto quindi se questa fo stampa a schermo dis punto a e questo oggetto ha una una proprietà che si chiama a uguale a due questo fo stamperebbe due questo due metodi call e apply sono spesso utilizzati all'interno di librerie e molto più raramente in programmi finali come potremmo fare noi ma comunque sono un'opzione questo binding esplicito per collegare una funzione che non appartiene a un certo oggetto con un certo oggetto che ha un suo dis e quindi vogliamo collegarli e metterla a disposizione ovviamente questa funzione da questo punto in poi da questa riga dopo questa riga verrà a parterrà avrà un dis che deriva da oggetto se viene chiamato prima di questa riga questo fo viene chiamato prima rispetta le regole precedenti che abbiamo visto in precedenza probabilmente la regola di default è anche possibile fare un binding hard perché ci sono casi come se noi passiamo la funzione come abbiamo visto qualche slide fa in cui passiamo il riferimento alla funzione invece di passare all'oggetto in cui questo binding anche il binding esplicito che abbiamo visto prima potrebbe andare perso di nuovo se noi per esempio passassimo la funzione e come facevamo qui quindi obj.fo anche se dopo che abbiamo fatto il colo l'apply quindi anche dopo che abbiamo fatto un binding esplicito se noi passiamo alla funzione e potremmo comunque perdere il binding perché ritorniamo in quel caso di prima in cui c'era un binding lì era implicito dell'oggetto noi possiamo averlo esplicito possiamo averlo in altri modi ma possiamo perdere lo stesso se noi passiamo la funzione invece dell'oggetto per esempio c'è una funzione e che di nuovo è definita per tutte le funzioni in javascript che si chiama bind che costruisce in maniera simile a quello che fanno col e apply è un binding tra la funzione e il suo e l'oggetto quindi in questo caso per esempio abbiamo new fo che è una funzione precedente la funzione bo fo che per new fo e solo per new fo viene collegata in maniera hard a un determinato oggetto quindi fo continuerà a comportarsi come si comportava in precedenza dopo questa riga ma new fo chiamerà essenzialmente sarà la stessa cosa di fo con il dis appartenente collegato al dis di questo oggetto quindi da questa riga in poi è come se scrivessimo object.new fo e non serve però scrivere object.new fo perché il bind restituisce una nuova funzione che è implicitamente collegata a questo oggetto e come dire sotto il cofano collegata a questo oggetto e quindi possiamo scrivere new fo e passare i suoi parametri di new fo quindi questo new fo si chiama una bound function e ovviamente fa la stessa cosa che fa fo ma con il dis riferita a questo object e questo new fo dato che vedete non è object.new fo come prima ma è semplicemente una funzione new fo che è indipendente che è stand alone questa funzione new fo da questa riga in poi sarà sempre avrà sempre un bind a object quindi il dis di questo new fo anche se viene passato in maniera particolare sarà sempre collegato a object a questo binding hard questo forte collegamento con il dis di quello di quell'obgetto specifico quarta regola il new l'abbiamo già visto in pratica quando abbiamo fatto le funzioni costruttrici quando un oggetto viene creato con una funzione costruttrice la funzione è collegata all'oggetto che è appena creato quindi let obj uguale new fo all'interno di questa funzione costruttrice il dis si riferisce al nuovo oggetto che verrà poi assegnato a obj il dis è quello che abbiamo appena dell'oggetto che abbiamo appena creato con questa funzione e qui apriamo solo una parentesi per dirvi come il new questo new che abbiamo usato questa parola chiave funziona e l'abbiamo vista l'abbiamo già utilizzato in pratica diverse volte ma come funziona cosa succede quando scriviamo object let object o const object uguale new e chiamiamo una funzione costruttrice che abbiamo definito beh succedono queste quattro cose prima di tutto viene creato un oggetto nuovo vuoto come se l'avessimo creato con le parentesi graffe aperte chiusa quindi con questo literal poi il nuovo oggetto appena costruito è collegato al suo prototipo principale questo non è al momento rilevante però comunque viene collegato a questo prototipo il nuovo oggetto quindi questo che è vuoto essenzialmente è collegato alla catena degli oggetti diciamo così di javascript è è impostato verità un dis impostato un binding su dis per quella call di funzione per questa call di funzione qui dove c'è il new e a meno che la funzione non ritorni un altro oggetto particolare diverso quindi a meno che non ci sia un return esplicito ad un oggetto diverso quando viene invocata questa new function il la nuova la funzione chiamata con questo new questi quindi quindi questo funk tornerà automaticamente il nuovo oggetto costruito quindi quello che qui è definito con le parentesi graffe e ovviamente se questo all'interno di questa function ci fosse la definizione di alcune proprietà dis.a uguale 2 quando ritorna l'oggetto l'oggetto ritorna con tutte le sue proprietà e tutti i suoi metodi definiti all'interno della funzione costruttrice come abbiamo fatto e abbiamo visto finora nei vari esempi e nei vari esercizi quindi per riassumere quali sono queste regole sono solo quattro avete visto e questa slide le riassume e le riassume in maniera da domande no con delle domande e la funzione chiamata con un new come abbiamo appena visto se chiamata con un new il dis e il dis dell'oggetto appena costruito e la funzione chiamata con il call o l'apply quindi l'explicit binding anche se nascosta dentro un hard binding quindi quello che utilizza la funzione il metodo bind se così il dis è quello dell'oggetto che viene esplicitato specificatamente quindi il dis è questo di obj2 è la funzione chiamata con un contesto quindi l'implicit binding anche conosciuto come abbiamo sempre chiamato contenuto in un oggetto quindi un metodo di un oggetto se sì il dis è l'oggetto di quel contesto quindi obj1.fo il dis è questo di obj1 altrimenti si applica la regola di default che abbiamo visto prima per cui in strict mode il dis è undefined per tutti gli altri casi che non sono questi tre superiori e quindi new explicit eventualmente hard binding implicit binding se nessuno di questi tre casi si applica la regola di default che in strict mode ci dice che il dis se una funzione chiamata direttamente dal contesto globale è undefined se invece non è lo strict mode è l'oggetto global in node oppure l'oggetto window nel browser ripeto quello stesso oggetto window che abbiamo utilizzato per recuperare document per esempio in tutto questo le arrow function sono una eccezione queste regole non si applicano per le arrow function le arrow function hanno sempre un comportamento diverso le arrow function in particolare adottano il binding del dis non dalla funzione che le chiama ma dalla funzione dallo scope della funzione che le contiene quindi se c'è una funzione che contiene un arrow function ereditano diciamo così il dis dalla funzione che le contiene se sono nel global scope ereditano il dis dal global scope qualunque esso sia in questo caso quindi qualunque esso sia cosa vuol dire vuol dire che dobbiamo andare a controllare il call site non della funzione dell'arrow function ma della funzione che viene chiamata che contiene l'arrow function per capire se le regole di prima si applicano in qualche caso e questo è molto comodo per l'event handler e anche per le callback dove appunto le arrow function hanno un ampio utilizzo come abbiamo visto finora quindi guardiamo per esempio questo questo esempio noi abbiamo qui un arrow function dentro la callback di set them out è un arrow function e dentro la callback di set them out abbiamo una console.log dis.a e quindi dopo 100 millisecondi javascript stamperà a schermo il risultato di questa operazione dis.a allora questo è ovviamente la call site di questa se noi considerassimo le regole precedenti la call site di questo è set them out e quindi avremmo praticamente finito con i set them out e poi sarebbe fo e poi andrebbe e poi fo verrebbe chiamata qui col col eccetera ci sarebbe troppo innestamento in questo caso il dis è quello della funzione che lo contiene quindi il dis è quello di fo è sempre quello di fo in questo caso qual è il dis di fo beh il dis di fo dato che questa è una funzione anonima il dis di fo è quello espressamente collegato a obj perché qui c'è un explicit binding e obj ha come dis punto a uguale 2 quindi questo set them out questa arrow function quindi questa arrow function non rispetta le regole di prima ma ridefinisce in un certo senso dis lo ridefinisce come lo ridefinisce in base al dis della funzione che lo contiene non della funzione che la chiama in questo caso la funzione che lo contiene è fo e fo è chiamata nel global space ma con call quindi c'è questo binding esplicito e quindi dis punto a sarà semplicemente due perché il fo è collegata come binding a oggetto questo è molto comodo usare le arrow function nel caso degli event handler come dicevo e nelle callback a differenza di altri per così qui invece di un arrow function usassimo una function expression questo ovviamente non si applicherebbe anche se è una callback e si applicherebbero le regole del chiamante quindi in questo caso avremo il dis del chiamante che è questo set them out che ha un dis secondo me non tanto ben definito quindi in pratica questa è una tabella che riassume le quattro regole più quello di le quattro regole usando fo come una funzione definita come dis punto a uguale n nella pratica quelli che incontriamo più di frequente sono questi tre casi le arrow function che hanno un dis che usa lo scopo usa il dis dello scopo che lo contiene il binding implicito che quello degli oggetti per cui il dis è quello dell'oggetto e il new binding che è quello normale per i costruttori quando facciamo new su una funzione costruttrice gli altri casi esistono ma sono casi molto più particolari però sempre da tenere in considerazione quando c'è qualcosa che non funziona avete un dis undefined cercate sempre di ricordarvi quali sono le regole del dis ed eventualmente se ricadete in uno di questi casi il default binding o l'explicit binding oppure se avete fatto un nuovo un new e quindi siete in una funzione che ha costruito un nuovo oggetto quindi il dis non è più quello del chiamante ma il dis è quello dell'oggetto che avete appena costruito se volete leggerne qualcosa in più rispetto a questo qui c'è un link i primi due capitoli di questo libro che è un libro gratis online you don't know javascript yet these object prototypes racconta queste cose con anche più dettagli ma ai fini del corso questo che abbiamo detto queste regole che trovate in queste slide e quindi queste essenzialmente tre casi specifici di cui probabilmente questo è quello più noto quello più ovvio implicitamente e questo del new avete già intuito come funzionasse con l'eccezione dell'arrow function sono quelle che capitano più di frequente e da tenere ben presente grazie a tutti